Ciao ragazzi, bentornati sul canale, bentornati su World of Warships Oggi andiamo a vedere, dopo tantissimo tempo, l'incrociatore premium sovietico di livello 8 Kutuzov Allora, vediamo prima di tutto cosa propone il matchmaking Abbiamo anche navi di livello 10, 4 caccio torpedinieri e una portaerei Solo 2 corazzate Rispettivamente una nave di livello 10 e una di livello 8 Diciamo qualcosa su questo incrociatore per rinfrescare la memoria Abbiamo una gittata di circa 19 km Una probabilità incendio molto elevata tramite la skill e le bandiere Che arriva, se ricordo bene, non vorrei essere in errore, a 15% Tempo di ricarica dei cannoni, 8 secondi Abbiamo anche i siluri I siluri che possono arrivare fino a 8 km di distanza Davvero tanto è tanto, ve lo posso assicurare Abbiamo il tasto di riparazione classico R Il tasto T che rappresenta la hidro E poi abbiamo il fumo, molto importante per la nostra nave Non possiamo recuperare punti vita Questa è una cosa molto negativa per la nostra nave Però diciamo che andiamo a compensare questa perdita Del recupero della vita tramite il fumo Abbiamo 3 cariche in totale tramite la skill del comandante Tra l'altro, apro una velocissima parentesi Il comandante che sto utilizzando su questa nave E il comandante che solitamente utilizzo Per quanto riguarda i cacciador pedinieri sovietici Anche se sinceramente qualche punto dovrebbe essere cambiato Perché non mi convince più di tanto In poche parole è una specie di capitano riciclato Messo sulla Kutuzov Proprio perché ha 19 skill In totale Tutte messe Vediamo un attimo Molto semplice Qui dobbiamo andare con le HE Molto importanti In tutti i sensi Cerchiamo di dare fuoco alla nave avversaria Una Tirpitz Corazzata premium di livello 8 tedesca È molto importante dare fuoco affinché Facciamo dei punti gratis Rimaniamo all'interno del fumo Abbiamo l'isolotto che ci copre da eventuali seduri nemici Insomma una posizione direi abbastanza buona Va a scattare il secondo incendio per 2 In realtà sarebbero 3 con quello precedente Però poi va a spegnere giustamente il tutto Abbiamo una buona presenza sul settore di alfa I nemici per il momento sembrano proporre una corazzata Un incrociatore Due cacciador perinieri Che si sono affacciati in maniera molto timida Nei primi minuti di partita Abbiamo anche dato un contributo sotto l'aspetto dell'antiaerea 3 aerei buttati giù Non sono tantissimi Però insomma fa sempre piacere distruggere qualche aereo Un altro incendio L'ha diciamo finalmente scattata di nuovo E' scattato di nuovo l'incendio Quindi questa volta deve tenerlo Andiamo a fare dei punti in maniera del tutto gratuita Il settore D Nel frattempo le cose non sembrerebbero essere positive Sicuramente hanno dei problemi Perché nessuno sta cappando D C'è qualcuno all'interno Poi vedo anche un incrociatore Ecco appunto il cacciador pediniere La nostra portaerei è una portaerei tedesca Quella premium che propone i bombardieri con le AP Molto pericolose, devastanti qualora dovessero penetrare Andiamo a perdere la Z23 Z23 Sul settore D mi sa Eh si E vedi che abbiamo dei problemi Tra l'altro anche i cacciador pedinieri Che prima erano su Alpha Stanno tornando su D Si stanno concentrando particolarmente su quel settore Proviamo un colpo sulla Fletcher No in realtà no Perché i colpi vanno completamente sull'isolotto Ripeto ancora una volta Il fatto di non poter recuperare i punti vita Ci mette nella condizione In una condizione molto pericolosa Perché magari andiamo a subire una cittadella Ebbene non possiamo recuperare i punti vita Giocate l'incrociatore con parsimonia Con attenzione Cercate di utilizzare il fumo nel momento corretto Avanzate se vi sentite sicuri O comunque avete la squadra che vi supporta Altrimenti pensateci due volte Poi insomma fate un po' come volete Io vi do dei consigli Per esperienza personale Per il momento 4 incendi 4 incendi 41.000 danni Fondamentalmente tutti sulla Tirpitz Corazzata molto molto pericolosa Soprattutto nella vicinanza Nello scontro ravvicinato Dato che ha i siluri Ha le armi secondarie molto Molto buone Quindi Per il momento sui 15 km possiamo gestirla Un altro incendio Vai vai Un altro incendio fa sempre piacere Nel frattempo ragazzi vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace al video Se possibile una condivisione Per aiutare sempre di più il canale a crescere Vorrei portare tra l'altro altri giochi Molti mi hanno chiesto di portare Battlefield 5 Ragazzi io lo porterei volentieri Però Devo vedere magari di fare Non so una live Per Potermi permettere Diciamo Quel gioco Voi direte Ma devi come? Non puoi comprarlo? Non è quello il concetto Il concetto è che il canale Deve Diciamo Autofinanziarsi E quella La regola di base Che ho sempre portato avanti Quindi poi vedremo in futuro La Curfus In questa circostanza Mi va a dare un po' di fastidio Perché volevo fare una virata secca a destra E cercare di intervenire Verso il settore D Un'altra cosa molto importante Che noto Anche durante la partita Proprio L'ho notata subito E che La porta aerei nemica Come potete ben vedere Rimane indietro Rispetto A quella che è la posizione Delle sue navi Nel senso che Loro stanno spingendo su D Ebbene Una posizione Un pochino Più giusta Sarebbe stata Forse B8 B9 Utilizzando Quell'isolotto Stando lì Ci garantisce A noi Squadra Un tiro Abbastanza semplice Per l'appunto Sulla porta aerei Qui la Tirpitz Molto fortunata Perché Non viene L'incendio Non scatta Tra l'altro I colpi Stavo cercando di prendere La mira Molti colpi Sono andati nell'acqua Brava la Tirpitz Insomma Si poteva fare Sicuramente Di più Sia per quanto riguarda La mia mira Sia per quanto riguarda La fortuna Qui Metto le AP Non metto le AP Facciamo la cittadella Non facciamo la cittadella Decido di continuare Ad utilizzare Le HE Mi piace l'incendio Mi piace l'incendio Veramente Vediamo se riusciamo a prendere La prima kill Una kill almeno Dopo 8 minuti Ancora siamo a zero Però abbiamo dato Un buon contributo Nel frattempo Sul settore D La situazione è completamente Degenerata Abbiamo perso Tre cacciatorpediniere Abbiamo perso La nave La corazzata La Bismarck Se ricordo bene Vediamo se arriva la kill No Niente Arriva Va alla Gering La Hindenburg Nel frattempo Sta facendo un ottimo Lavoro di copertura Verso il settore Di Charlie Vedete proprio Il settore di Charlie Viene invaso ormai Dai nemici Proviamo in qualche modo A dire la nostra Siamo a 67.000 danni 106 hit 6 incendi 3 aerei distrutti Abbiamo ancora Due cariche Per quanto riguarda Il fumo Vediamo di utilizzarle Anche per dare copertura Alla nostra corazzata Dietro di noi Quella mosca È un obiettivo Davvero Molto Interessante Se non fosse che Non viene spottata Da nessuno O comunque sia C'è del fumo Che va a coprire La sua posizione Il settore di Bravo Viene Non viene catturato Almeno per il momento Cerchiamo di dare Qualche colpo Ai vari incrociatori Che avanzano Sul settore di Charlie Lì abbiamo ancora I bombardieri Guardate quanti sono Un problema in meno Sicuramente Per la nostra porta aerei Che non deve pensare A quella nemica Però ripeto Lì secondo me Doveva spostarsi Sulla destra La nostra corazzata Finalmente Si Diciamo Si muove Si era messa In una situazione Un po' spiacevole Contro l'isolotto Proviamo ad andare Contro la Hiper Corazzata Buongiorno Incrociatore Di livello 8 Tedesco Facciamo una cittadella Di conforto Finalmente Arriva una cittadella Il tempo di ricarica Ragazzi Di 8 secondi È davvero Ottimo Sia se desideriamo Andare con le AP Che fanno molto male Sia per quanto riguarda Le HE In questa circostanza Rivedendo il replay Potevo andare Sul caccia Caccia d'orpediniere Fletcher Però Ho pensato Abbiamo 4 navi Nelle vicinanze Due incrociatori Un caccia d'orpediniere E una corazzata Perché devo sparare Anch'io A una nave Che probabilmente Sta per essere distrutta E quindi cerco In qualche modo Di sparare Prima gli incrociatori Su Charlie E poi Sulla corazzata Davanti a me Infatti poi Il caccia d'orpediniere Viene timbrato Da un'attenta Da un'attentissima Da un'attentissimo Incrociatore giapponese La partita È ancora in equilibrio Abbiamo perso 5 navi I nemici 5 navi Pula portaerei I punti 500 a 600 Stiamo catturando Bravo È il momento Di tornare Verso La base Di Charlie Dobbiamo in qualche modo Dare supporto A un'ottima Hindenburg Che sta tenendo Il lato Praticamente Da mezz'ora Quindi Un ottimo lavoro Abbiamo ancora Una carica Abbiamo il tasto T Pronto In un minuto circa Il tasto R Sempre a disposizione La nostra portaerei Vedete che sta avanzando Sta facendo bene Perché non è rimasta indietro Deve seguire l'azione Quindi ancora una volta La minimappa Risulta molto importante Da consultare Ogni tanto Non dico che devi stare Ogni secondo a guardarla Però Ecco Ogni 30 secondi Dai un'occhiata Vediamo un attimo Abbiamo la Hiper Abbiamo un cacciatore peliniera Abbiamo un incrociatore Giapponese Continuiamo ad avanzare 539 A 652 Non abbiamo dato Tantissimi punti vita Quindi siamo Full vita E possiamo pensare Di confrontarci Comunque Contro le navi Nemiche Vediamo la Hiper Che rimane A 1395 punti Oggi Diciamo che La mira Non è delle Migliori Infatti Questo colpo No niente Anche un po' di sfortuna Però si apre Quando non deve Lui Lui praticamente In questa circostanza Va a rallentare Infatti i miei colpi Vanno totalmente Nell'acqua Buona kill Della Hindenburg Sta dicendo Un giocatore In chat Dice Perché stai andando Con le AP Vai con le HE E effettivamente Secondo me ha ragione Perché Quando una nave Ha pochi punti vita Parliamo di 1000 punti 2000 3000 punti Andate con le HE Perché lì vi serve Il danno assicurato Il danno AP Potrebbe in qualche modo O non penetrare Oppure Penetrare troppo Quindi parliamo di Over penetration E il danno È minimo Invece con le HE Fai un danno Abbastanza Significativo E in più Hai la possibilità Di appiccare L'incendio Ricordiamo questa cosa Finalmente Arriva la kill Arriva la kill Tramite la nostra Hydro La nostra Fantastica Hydro Che spotta le navi Fino a 5 km Molto molto Importante Andiamo a subire I primi colpi Dell'incrociatore Nemico Andiamo con le HE Cerchiamo un primo tiro Molto rapido Sulla corazzata Che non arriva Cercate sempre di Ovviamente Massimizzare Quelle che sono le occasioni Se potete sparare A una nave Dietro di voi Fatelo Anche se ne avete Due davanti Insomma Andiamo contro L'incrocio Il caccia torpediniere Americano Rimane a 279 Vabbè ragazzi Un po' di sfortuna A 279 Vediamo se portiamo a casa La kill Finalmente arriva Facciamo attenzione Dobbiamo affrontare Il caccia Il vabbè Oggi non azzecco Niente Due incrociatori Arriva la Indenburg a supporto Abbiamo la mosca A 12 km Noi veniamo Spottati A 12.7 Mettiamo il fumo Mettiamo le AP Veniamo spottati Sfortunatamente Dalla Idro O comunque sia Dal radar Forse più radar Nemico Andiamo a fare Una cittadella Prendiamo colpi ormai Da destra e da sinistra Soprattutto Quella mosca E' molto Molto fastidiosa Andiamo a fare Un'altra cittadella Qui ragazzi Un piccolo E significante Errore Mi sono aperto Secondo me Con molto Ritardo Nel cercare Di sparare L'incrociatore Giapponese Se mi fossi aperto Prima Avrei dato spazio Ai cannoni Di poppa E forse Avrei Portato a casa La nave In questa circostanza Abbiamo notato Ancora Una volta Come Il non poter Recuperare Punti vita Mi abbia Molto Molto Svantaggiato Ciò nonostante La kill E' arrivata Sta un po' laggando Nel replay Non fa niente Niente Alla fine Chiudiamo con 132.000 danni Adesso andiamo a vedere Nel dettaglio Cosa abbiamo portato A casa Risultati Posto scontro Ragazzi Video terminato Grazie per l'attenzione Noi come sempre Ci vediamo alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione